E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! L'universo è mentale. Esso risiede nella mente del tutto. Abbiamo detto che il tutto è spirito. Ma cos'è lo spirito? Questa domanda è senza risposta perché, identificandosi lo spirito nel tutto, per sua natura indefinibile, siamo in un circolo chiuso. Possiamo solo dire che lo spirito è il nome che l'uomo dà alla sua più alta concezione della mente vivente infinita. Significa essenza reale ed è superiore alla vita e alla mente, come noi le conosciamo, poiché trascende la nostra comprensione. E' questo l'unico motivo per il quale siamo autorizzati a pensarlo come mente vivente infinita, pur riconoscendo di non poterlo comprendere appieno. Senza questa premessa è impossibile procedere oltre. Ora passiamo a considerare la natura dell'universo come insieme e nelle sue parti. Abbiamo già osservato come nulla può esistere al di fuori del tutto. Né, però, l'universo può essere tutto, in quanto esso sembra consistere in molteplici parti ed è in costante evoluzione. La prima conclusione che ci verrebbe da fare è che se l'universo non è commensurabile al tutto, sarà il nulla. Ma con ciò non si può certo dire di aver risolto il problema, ma solo di averlo evitato, poiché noi abbiamo il senso dell'esistenza dell'universo. E se non è il nulla, né il tutto, che cos'è? Se l'universo esiste, o almeno sembra esistere, non può non provenire dal tutto e quindi è una sua creazione. Ma conservando il principio che nulla può nascere dal nulla, cosa può aver creato il tutto? C'è chi dice che il tutto abbia creato l'universo da sé stesso, cioè facendolo derivare dalla propria essenza. Ma questa è una teoria in antitesi con il principio che ogni molecola dell'universo non è consapevole di appartenere al tutto. Ci sono anche persone che, nella consapevolezza dell'esistenza del tutto come entità e della realtà della natura umana, giungono alla conclusione che uomo e tutto siano la stessa cosa e quindi si ritengono una sorta di divinità novelle, causando la derisione delle masse e l'avvilimento delle persone sensate. In confronto, la pretesa di un atomo di materia che dicesse io sono uomo suonerebbe meno assurda. Ma torniamo al nostro problema. Cos'è questo universo, se non si identifica col tutto, non è propriamente una sua creazione né si è da lui separato? Cos'altro può essere? Cosa può averlo generato? Esaminiamo il problema più attentamente. Cominciamo col tenere a mente l'antico principio della corrispondenza. Come al di sopra, così al di sotto. Come al di sotto, così al di sopra. Proviamo a guardare le funzioni dei piani alti, basandoci su quello che avviene sul nostro livello. Innanzitutto, com'è che l'uomo crea sul proprio piano? Vediamo subito che egli potrebbe creare dando forma a qualcosa da materie esterne. Tutto ciò non potrebbe essere in quanto nessun materiale con cui si possa creare esiste esteriormente al tutto. Inoltre, l'uomo riproduce la propria specie con un processo di generazione che si può definire come moltiplicazione di sé, grazie al trasferimento di una propria sostanza a ciò, o colui, colei in questo caso, che egli genera. tutto questo non può applicarsi al tutto, poiché sappiamo che non può sottrarre o trasferire una sua parte, non può moltiplicarla, né tantomeno riprodurla. Ma non esiste forse un altro modo di creare per l'uomo? Sì, c'è. Egli può creare mentalmente. E così facendo non usa alcun materiale esterno, né si riproduce, eppure il suo spirito pervade la creazione mentale. Sulla base del principio della corrispondenza possiamo affermare che il tutto crea l'universo mentalmente, tramite un processo analogo a quello usato dall'uomo per le immagini mentali. Non possiamo che giungere razionalmente ad una sola conclusione. Il tutto non può creare se non mentalmente, cioè senza impiego di alcun materiale o mediante riproduzione. La differenza tra la creazione dell'universo e la creazione nella nostra mente è che mentre la nostra è creazione di una mente finita, l'altra lo è di una mente infinita, superiore. Sono simili nella specie, ma differiscono infinitamente nel grado di intensità. L'universo e tutto ciò che contiene sono una creazione mentale del tutto. Tutto, in verità, è mente. Nella sua mente infinita, il tutto crea moltissimi universi che esistono per tempi diversi nell'ordine di millenni, ma per il tutto creazione, sviluppo, regresso e morte di un miliardo di universi non hanno durata maggiore dell'aprirsi e chiudersi di un occhio. La mente infinita del tutto è il ventre degli universi. Come già abbiamo osservato, il principio del genere, pur manifestandosi su tutti i piani di esistenza, mentale, spirituale e materiale, non va confuso col sesso che è soltanto una manifestazione materiale del genere. Per genere si intende relativo a generazione o a creazione. perciò ovunque avvenga una creazione o generazione questo principio non può non manifestarsi. Si applica ovviamente anche alla creazione di universi. Non si deve però concludere che noi insegniamo che c'è un creatore o Dio maschio e femmina. Tale teoria non è che una deformazione degli antichi insegnamenti. La verità è che il tutto è al di sopra di ogni legge quindi di quella del tempo dello spazio ed anche di quella del genere. È la legge da cui derivano tutte le altre e non può essere soggetta ad alcuna di esse. Invece bisogna dire che quando il tutto si manifesta sul piano della generazione opera secondo questo principio in quanto si muove su un piano di esistenza inferiore. Di conseguenza manifesta il principio del genere nei suoi aspetti materiali maschile e femminile. il tutto avviene naturalmente sul piano mentale. Questa teoria può sembrare strabiliante a chi ne senta parlare per la prima volta mentre in realtà è comunemente accettata nei pensieri di ogni giorno. Non parliamo forse giornalmente della paternità di Dio o della maternità della natura? così dicendo riconosciamo come valido il principio del genere dell'universo. Non è forse così? L'insegnamento ermetico tuttavia non implica una vera e propria dualità. Il tutto è uno solo anche se si manifesta sotto i due aspetti. Il principio maschile che il tutto manifesta rimane in un certo senso separato dall'effettiva creazione mentale dell'universo. La sua volontà viene proiettata verso il principio femminile e soltanto da questo ha inizio il vero lavoro di evoluzione dell'universo che giunge all'uomo e poi ad entità sempre più alte sempre rispettando leggi fisse ed immutabili. Se vogliamo attenerci alla vecchia scuola di pensiero possiamo affermare che il principio maschile si realizza in Dio Padre quello femminile in madre natura. È più di un'immagine metaforica è l'effettivo processo creativo dell'universo. Bisogna però tenere sempre presente che il tutto non è altro che uno e che l'universo esiste come creazione nella sua mente infinita. Per avere un'idea più esatta sulla veridicità di questa legge basterà applicare il principio della corrispondenza alla nostra mente. Ognuno di noi sa molto bene che quella parte che chiamiamo Io dentro di noi è quasi separata e assiste in un certo senso alla creazione di immagini mentali. Dall'Io possiamo distinguere il Me cioè quella parte della mente in cui si compie la creazione. L'Io quindi agisce come supervisore esaminando i pensieri e le immagini del Me Se teniamo a mente che come al di sopra così al di sotto potremo usare fenomeni di un piano di esistenza per spiegare i misteri di quelli superiori o inferiori. Non dobbiamo però lasciarci ingannare dalla supposizione che questo piccolo mondo in cui viviamo che non è che un granello di polvere sperduto nello spazio sia l'universo stesso. Ci sono miliardi di universi e di mondi anche più grandi del nostro nella mente infinita del tutto. Nel nostro stesso minuscolo sistema solare vi sono piani di vita molto più elevati del nostro ed esseri al cui confronto non siamo che deboli forme di vita terrestri. eppure anche questi esseri un tempo erano simili agli umani se non ad un livello anche più basso. Allo stesso modo noi un giorno saremo come loro e forse anche più elevati. Questo è il destino dell'uomo secondo la sapienza degli illuminati. Entro la mente padre e madre i mortali sono al sicuro. Nell'universo nessuno è senza padre né senza madre. a non a non aveva è senza